Un confronto tra sindaci, operatori economici, imprenditori per studiare una strategia comune utile a favorire la transizione energetica e a esserne parte integrante. Lo ha promosso la Camera di Commercio di Chieti Pescara, incentrando il dibattito sulle comunità energetiche e rinnovabili. Al Palavecci, nel porto turistico Marina di Pescara, si è parlato di efficientamento energetico, di tecnologie e di strumenti per la progettazione e il coordinamento delle comunità energetiche, in modo da favorire la transizione green. Testimonianze, esempi concreti, aperti dall'intervento a distanza dell'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, Dopodiché hanno esposto le loro relazioni Paolo Arrigoni, presidente del gestore dei servizi energetici, Antonio Romeo, direttore di Dintec ed altri esperti. Il presidente dell'ente camerale, Gennaro Strever, ha spiegato la finalità della giornata. Dare il nostro contributo con l'ente camerale e abbiamo organizzato questa giornata di studio, confrontando a partire dal GSE, l'Enea e altri Dindec, la società del sistema camerale, per informare e condividere il percorso ottimale, se non quello giusto, per arrivare a costituire una comunità energetica, perché fino adesso se ne è parlato tanto, ma si è fatto poco. Dopo questo convegno speriamo che c'è la conoscenza sul territorio. A settembre prossimo, fino a luglio, tipo Enea, tipo altri concerti ci aiutano e ci supportano in questa illettativa, poi dopo chiederemo...